Mentre per Cartesio la dimostrazione dell'esistenza di Dio serve per fondare in qualche modo la conoscenza umana o la sua riedificazione su fondamenta più salde, per mezzo alla luce sotto il faro dell'evidenza e quindi Dio sarebbe in qualche modo la garanzia delle evidenze conosciute dalla mente umana, le varie e tre formulazioni, distinte formulazioni della dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio da parte di Cartesio non hanno convinto i suoi contemporanei, in modo particolare non ha convinto Gassendi, secondo il quale, tanto per cominciare, l'esistenza non è un concetto presente, cioè implicito all'interno della definizione di qualcosa. Se io definisco Dio come l'essere sommamente perfetto, ad esempio, all'interno di questa definizione sommamente perfetto non posso far risultare, non posso includere la nozione di esistenza. Questo perché quando si dice che una cosa esiste non si sta indicando una sua proprietà che si aggiunge alle altre, ma si sta affermando che essa è anche fuori della mente che la pensa. Proprio questa esistenza estramentale è la condizione perché quella cosa possa avere delle proprietà. Magassendiva, oltre, prende di mira anche i due caposaldi della, diciamo così, prima provo, prima formulazione della dimostrazione razionale di Dio, ovvero la convinzione che l'idea di Dio, in quanto ente infinito, sia innata. E inoltre la convinzione che questa idea, cioè dell'idea innata di Dio presente nella nostra mente, sia anche positiva o originaria, che cioè non sia derivata né da altre idee, né tantomeno dall'esperienza. Secondo Gassendì, invece, l'idea di Dio come ente infinito è frutto dell'educazione, cioè della trasmissione di una data cultura e della comunicazione tra gli uomini. Essa dunque potrebbe benissimo essere il risultato di una costruzione da parte della mente umana e, di conseguenza, l'uomo ricava l'idea dell'imperfezione della finitezza dalla negazione di perfezione e di infinito. Come sostiene Gassendì, in me la percezione dell'infinito precede in qualche modo quella del finito, vale a dire la percezione di Dio quella di me stesso. Per Cartesio dunque la certezza esige la certezza di Dio come essere perfetto. Questa è la controobiezione che Cartesio mosse alle critiche di Gassendì. Ma mettendo tra parentesi le critiche alla nozione, alla dimostrazione razionale d'essenza di Dio, riprendiamo in considerazione il ruolo, l'importanza, il valore di questo ente somalmente perfetto, la cui esistenza sarebbe stata dimostrata secondo Cartesio. Ora, il criterio dell'evidenza, una volta che si sia dimostrata l'esistenza di Dio, ha trovato finalmente la sua garanzia. Questo perché Dio, essendo perfetto, non può, non vuole, non desidera ingannarmi, a differenza dell'ipotesi radicale del genio maligno nel cosiddetto dubbio radicale o nel dubbio iperbodico. La facoltà del giudizio dunque, cioè del dubitare dunque, del pensare dunque, che ho ricevuto da lui, non può essere tale da indurmi in errore se viene adoperata correttamente. Come scriveva Cartesio, essendo Dio solanamente buono e la fonte di ogni verità, poiché è lui che ci ha creati, è certo che la potenza o facoltà che ci ha data per distinguere il vero dal falso non sbaglia, quando noi siamo bene e quando ci mostra con evidenza che una cosa è vera. Dunque, tutto ciò che appare chiaro ed evidente deve, a causa della esistenza di Dio, la cui esistenza è stata dimostrata in maniera chiara e evidente, deve essere vero, poiché Dio lo garantisce come tale. Dunque, in Cartesio Dio è una sorta di termine medio perché ci permette di passare, ci consente il passaggio e garanzia del passaggio, della correttezza del passaggio dalla certezza del nostro io alla certezza delle altre evidenze, o per meglio dire, di quelle esperienze di realtà corporee esterne a noi, fuori di noi, estramentali, in qualche modo attestate, in qualche modo testimoniati dai nostri organi di senso. Ma allora, se Dio è garante dell'evidenza, da dove sorge, da dove deriva l'errore? Secondo Cartesio, l'errore deriva dalla combinazione tra il nostro intelletto e la nostra stessa volontà, il nostro libero arbitrio. Questo perché, mentre l'intelletto è limitato, la volontà umana invece è libera e assai più estesa dell'intelletto. La volontà infatti consiste nella possibilità di fare o non fare, di affermare o negare, di ricercare o fuggire, e può scegliere tra queste diverse opzioni, sia rispetto alle cose che l'intelletto presenta in modo chiaro e distinto, sia rispetto a quelle che non hanno chiarezza e distinzione sufficienti. In questa possibilità di giudicare e scegliere, anche su ciò che l'intelletto non riesce a percepire chiaramente, risiede la possibilità dell'errore. L'errore non potrebbe avere luogo se io formulasse il mio giudizio soltanto su ciò che il mio intelletto concepisce con sufficiente chiarezza e se mi astenesse da giudicare su ciò che non è abbastanza chiaro. Ma poiché la mia volontà che è libera può venire meno a questa regola e indurmi a pronunciarmi su tutto indipendentemente dalla sua evidenza, ecco che nasce la possibilità dell'errore. In questa seconda situazione è certamente possibile indovinare la verità, ma se e quando ciò accade è per puro caso. È più probabile invece che ciò che sta ferma senza averne una certezza assoluta non sia vero e che quindi si cada in errore. L'errore dunque dipende unicamente dal libero arbitrio che Dio ha dato all'essere umano e si può evitare soltanto attenendosi stupolosamente e metodicamente alle regole del metodo. In primo luogo alla regola dell'evidenza. Ora, fondato sulla bontà e sulla vericità di Dio, il principio dell'evidenza consente a cartesio di eliminare il dubbio che egli stesso aveva avanzato circa la realtà delle cose corporee. Ogni essere umano ha l'idea evidente dell'esistenza fuori di sé di cose corporee e che agiscono sui suoi organi di senso. E questa idea, essendo appunto evidente, non può essere ingannevole. Devono dunque esistere delle cose corporee corrispondenti alle idee che ne abbiamo. A questo punto, dunque, noi dobbiamo riconoscere l'esistenza di corpi estramentali e di questi corpi noi abbiamo in qualche modo una idea che ci costruiamo sulla base dell'esperienza di questi stessi corpi. Tuttavia, cartesio ammette una differenza o la possibilità di uno starto tra le qualità di queste realtà estracorporee presenti nella idea che ne abbiamo all'interno della nostra mente e le qualità che queste stesse realtà effettivamente posseggono al di fuori di noi. Si tratta di una distinzione che era già presente in Galilei, ma che in realtà affonda le proprie radici in Demolito, tra le proprietà oggettive e soggettive dei corpi. Ad esempio, l'atlandezza, la figura, il movimento, la durata e il numero sono qualità reali oggettive dei corpi. Ma il colore, il sapore, l'odore, e il suono e così via dipendono solamente dalla percezione che ne ha il soggetto e dunque sono proprietà soggettivi e che non esistono come tali nella realtà corporea. Ammettendo però l'esistenza di corpi, cartesio ammette accanto al res cogitans, cioè accanto alla sostanza pensante, una res estensa, una cosa estesa, una sostanza corporea che consiste nella materia. Egli divide dunque la realtà in due zone distinte ed eterogenee, composte da molteplici sostanze pensanti, incorporee, inestese, consapevole e libere, e una sostanza estesa che è corporea, spaziale, inconsapevole e meccanicamente determinata. Cartesio perviene dunque al cosiddetto dualismo ontologico che postula l'esistenza di due sostanze distinte e separate. Tuttavia, mentre esistono molte sostanze pensanti, molte res cogitans, la sostanza estesa invece per cartesio è unica, è una sola, la materia o l'estensione, della quale i singoli corpi sono soltanto istanziazioni accidentali o modificazioni transitorie. Sotto gli atti del pensare, del volere e del desiderare dunque si trovano più anime individuali. Ma dopo aver distinto la realtà in due porzioni separate, dopo aver tagliato in due la stessa realtà, Cartesio si trova di fronte al problema di superare in qualche modo il suo stesso dualismo, cioè di conciliare le due parti della stessa realtà o di porre in discussione, cioè di tematizzare la relazione tra l'anima e il corpo. Questa questione viene a detta di Cartesio risolta con la teoria della diandola pineale, cioè questa sola parte del cervello che non si presenta doppia e che Cartesio ipotizza svolgere la funzione di unificazione delle sensazioni provenienti dagli organi di senso e del loro trasferimento nell'anima. Quindi sarebbe nient'altro che una realtà intermedia che consente appunto le relazioni, le interazioni tra le due sostanze. Analogamente attraverso l'anima pineale, le scelte della volontà poi si trasformano in qualcosa di corporeo, ad esempio nei movimenti dei nostri arti. Questa soluzione, che per Cartesio risolve il suo stesso dualismo, è in realtà pseudo-filosofica, pseudo-scientifica e tale apparirà ai pensatori successivi, che cercheranno invece di risolvere il dualismo in modo diverso.